Buone visioni di gioco, grande capacità di adattamento, un centrocampista di qualità, come si chiama in questi casi, che possono fare cose importanti, tra l'altro è quello che ha segnato il primo gol ufficiale dell'anno, a noi non importa, però in Coppa Italia, il primo gol... Vai Vincenzo! 26 anni il napoletano era con il nostro grassadone a tempi della salernità, Vincenzo, vai Vincenzo! Noi abbiamo deciso di dividere un po' i calciatori, così ve li facciamo vedere per bene, ve li presentiamo per bene, quindi di questo blocco questo è l'ultimo, ma non certo per importanza, anzi... Abbiamo primo e secondo tempo, esatto, avremo anche l'intervallo poi... E questo è un giocatore speciale, perché è uno di quelli che alla fine della partita la maglia la sudano sempre, tutte le partite, non fa mancare mai il suo impegno, è uno che macina chilometri, che ci mette il cuore a ogni partita... E il suo spirito combattivo e il suo modo di giocare ci piacciono un sacco, a differenza di un po' del suo accento, ma non fa niente... Salo Bucolo! Con un capello nuovo! Salo io volevo perdere due minuti con te, ho scritto tra le cose che avevo scritto...